ragazzi buonasera ben arrivati di nuovo sul mio canale guardiamo insieme questi ultimi cinque minuti del derby roma lazio partita tostissima per entrambe le squadre però ho visto una lazio più squadra più con idee di gioco ed è quello che vuole sarri mentre ho visto una roma che l'ha puntata più sotto un aspetto agonistico più sotto il lato fisico e poche idee anche ben confuse mi dispiace dire però poi magari all'ultimo segnano due gol e mi smentiscono però non ho visto una roma bella anche se quest'anno roma bella sinceramente io non l'ho mai vista tranne la partita contro l'atalanta che meritava di vincere la roma poi per il resto ho visto sempre una roma che di bello a livello di gioco no però che si fa rispettare sta cercando in tutti i voti di pareggiare questa partita che è andata sotto per una sciocchezza di bannets non oso immaginare come possa stare ora il bannets se dovesse decidere il derby tra roma e lazio dopo la papera la papera che ha fatto però c'è da dire anche un'altra cosa che la roma davanti è sterile e sterile 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 anche se senza di bala la roma perde tantissimo lo so che stiamo parlando di un grande calciatore come di bala però abram proprio il riconoscibile a differenza del giocatore dell'anno scorso che anche aveva iniziato in sordina l'anno scorso poi pian piano si è ripreso però quest'anno proprio vedo spento 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 poi avuto anche la sfortuna del dell'infortunio di pellegrini che un altro grande giocatore della roma speriamo che non si sia fatto niente di male per i tifosi della roma e soprattutto per la squadra ora ultima salta attenzione la roma ecco come dicevo poche idee anche molto confuse ecco palle laterali buttare in mezzo ma difficilmente riescono arrivare anche sul laterale mettere palle in mezzo ora che ci sta sia belotti che abram a centro poca roba sarri no che la lazio abbia fatto chissà di che cosa di più per vincere questo derby però la lazio è stata ben accorta dopo essere andata in vantaggio è stata ben accorta non subire grosse parate da parti di pro vederle tranne la traversa presa da zaniolo su una deviazione non ho viste quindi attenzione proprio no niente non riesce la roma è lo ripeto esterle 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 in avanti non riesce ad essere concreta che cosa dire più questo ragazzo volpato secondo me volpato bravo forte l'unica cosa deve essere un po meno presuntuoso perché a 19 anni dopo un'azione che tra parentesi hai pure torto rivolgerti così all'albitro no a 19 anni non puoi neanche a 30 a 40 ma soprattutto a 19 anni non puoi devi incominare mangiarne di erba di campi di calcio prima di poter parlare con un albito come orsato che attualmente si dice che sia il migliore in italia quindi con calma è molta calma e niente questa è ora c'è l'assalto finale da parte della roma vediamo che cosa succede e quindi la lazio in questo momento sale in classifica scavalca proprio la roma la lazio mi ricordo un po come il primo napoli di di sarri cioè che può vincere contro tutti ma nello stesso modo può perdere contro tutti fa delle prestazioni incredibili con prestazioni molto mediocre è una squadra che ha bisogno del suo assetto però è una gran bella squadra da tenere sotto d'occhio non penso tanto per la lotta al titolo ma ma per la lotta alla champions league si qua mi sa che si arriverà oltre il centesimo perché si è perso un po di tempo la panchina della lazio già incomincia ad esultare anche se penso che sia un po prestino per incominciare ad esultare comunque vediamo insieme questi ultimi due minuti è ormai siamo alla fine mancano pochi secondi e sarri fa di nuovo su e derby è murigno voglio vedere questa volta che che dirà ecco è finita in questo momento ora voglio dire murigno voglio sentire murigno cosa dirà per questa sconfitta una roma se non non so contro il napoli ha fatto zero di riporto qua non lo so quando ne ha fatti ma pochi pochi e niente ripeto poche idee anche molto confuso mentre la lazio la razza da tenere d'occhio complimenti a allo tito e tale che per l'ennesima volta con quattro soldi hanno fatto una squadra che riesce a lottare per i posti alti della classifica sempre in sordina zitti muti e fanno quello che devono fare e nel calcio ci vogliono idee se sempre detto sì i soldi sono importanti vedi manchester city vedi per st germane ma ci vogliono soprattutto le idee le idee riuscire a trovare i giocatori giusti per i ruoli giusti complimenti alla lazio io vi ripeto di ci sentiamo alla prossima per un nuovo contributo sul canale partenope siamo noi mi raccomando iscrivetevi mettete un vi piace se se ecco tra virgolette vi piace cosa parliamo e grazie ancora è sempre forza napoli grazie 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 grazie